Il referendum costituzionale attesa probabilmente già domani la decisione del TAR del Lazio sul ricorso contro il quesito presentato da 5 Stelle e Sinistra Italiana. L'ex premier D'Alema attacca e dice una riforma pasticciata. Cecilia Primerano. Il fronte del non guarda i giudici del TAR che domani dovrebbero decidere sul ricorso presentato sulla formulazione del quesito referendario dei 5 Stelle da Sinistra Italiana, testo considerato fuorviante e incompleto dai promotori del ricorso. Il Movimento 5 Stelle dice no a questa riforma. Il grande blef targato Renzi, Alfano e Verdini non taglia gli stipendi dei politici ma toglie democrazia ai cittadini.